Vado con il rec? Vado con il rec, perfetto. Rosso. Oh, d'accordo. Allora, buonasera a tutti. Oggi è sabato 25 settembre 2021, 2509-2021 e dalla sala di Alice nella città a Castellone stiamo contemporaneamente facendo più cose. Stiamo guardando un Inter Atalanta che tristemente vede i neroazzurri quelli buoni che stanno perdendo contro i neroazzurri cattivi per 2-1. Stiamo soprattutto testando tutta una tecnologia di altissimo livello. Io lavoro a Bergamo, puoi iniziare un progetto nuovo parlando di calcio. Non sono solo, come sapete non sono solo, come vedete non sono solo. Parlo sia di visualizzazioni che di ascolti. I miei colleghi mi pestino, è lunedì. Allora, facciamo così, diciamo subito chi c'è al tavolo qui col sottoscritto. Sono incontrollabili per cui. Oltre a me, che sono sottoscritto, abbiamo il Roggi che è un compagno di viaggio di Alice nella città. Buonasera, non vedo l'ora che si riparte. E poi abbiamo un ospite speciale che abbiamo voluto chiamare volutamente voluto qui con noi, che è Emanuele Mandelli. Sopravvissuto. Sopravvissuto e che abbiamo voluto proprio per la puntata zero, e non è un caso. Essendo tutto abbastanza così, precario chi meglio. Mi sembra giusto cercare, come dire, la figura migliore per testare tutto quanto. Mandelli, che ovviamente non è che sarà solamente qui a dire sciocchezze per un'ora insieme a me e a Roggi, ma dopo, con calma, con tutti i tempi tecnici lenti di una cosa che sta ancora iniziando, dopo una cena a base di pasta con la zucca. A proposito, pasta con la zucca o aglio, olio e peperoncino? Aglio, olio. Tutti e due aglio, olio. Io passo con la zucca perché non ho le caramelle per... Per la fiatella. Per la fiatella, quindi preferisco la pasta con la zucca perché qua, da lì, non vendono le frisque. E io sono già... La pubblicità occulta ti blocca. Mi tocca andare in un altro bar a comprare. Ma io non devo limonare con nessuno, quindi mangio aglio. E invece io sì, io cerco sempre di limonare con tutto. Ma tu sei giovane, per cui... Quindi abbiamo un aglio e olio, se volete segnare, una pasta con la zucca alle otto. Ecco, se siete in giro, dite, ma che cosa faccio stasera, non so cosa... Beh, insomma, almeno volete mangiare in compagnia, sappiate che alle otto, arrivate dieci minuti prima perché si butta la pasta a una certa ora, si pesa sul momento, quindi venite, chiedete o pasta con la zucca o aglio, olio e peperoncino. Questo per la serata. Ecco, per dire quanto, come dire, il palinsesto con me già organizzato in partenza. Quindi dopo calcio e gastronomia, i temi classici degli italiani, manca solo quella... Dopo calcio e gastronomia... Ma ne manca solo uno. Manca solo uno. Il vinile. Ho temuto per un attimo. No, 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 che è la grande malattia trainante che ci accomuna, no? Esatto. Eh sì. Tra l'altro io e Emanuele ci siamo visti tutto questo periodo di lockdown, scambiandoci vinili. Voi dovete sapere che la prima persona che ho visto, anzi, durante il lockdown duro, l'unica persona che veniva ogni tanto era lui, scendevo, per fare dei cambi improbabili, tipo Testament contro Ornella Vanoni, delle cose avvicinate. E ci siamo così, ci siamo divertiti al nostro modo. No, tra l'altro voi siete due collezionisti spaventosi che avete in comune due filoni... Allora, perché io ho parecchia roba a casa, devo dire, cioè è una malattia che ci accomuna, come dicevo prima, però intanto non raggiungo i vostri numeri, primo, e poi non ho essenzialmente due filoni fondamentali che voi coltivate tantissimo, che sono da una parte tutto ciò che è metal e dall'altra tutto ciò che è musica italiana, anche, come dire, di bassa leva, voglio dire. E infatti sulla seconda che hai detto, per citare quello, abbiamo impostato un po' l'idea della serata. No, che tra l'altro ho visto la scaletta del vinil set, che attenzione, perché non sarà un DJ set come fanno tutti i fighetti che attaccano la chiavetta, no? Noi arriviamo con i vinili pesanti e puzzolenti di muffa e di cantina, e non solo i vinili 33, ma alterniamo 33-45, giusto? Dai, mandi, spiegaci un po' cosa è. Allora, la cosa divertente, fatta anche per farmi trasportare meno peso da casa qui, perché, vabbè, si sa, ormai sono cardiopatico, per cui è quella che su un piatto ci sarà sempre un 45 giri, su un piatto ci sarà sempre un 33 giri ad alternare. Io ho appena preso la malattia del 45, quindi siamo in perfetta sincronia. No, ma tra l'altro il 45 è come lo pescate, perché io, vabbè, insomma, il 33 ti metti lì davanti al cassone, sfogli, ed è anche... ma il 45 è palloso, perché... No, no, il 45 è una cosa che deve arrivare da sola. In che senso, scusami? Deve arrivare da sola, da qualche cantina, così... Non vedevo l'ora di usare i pressi. No, ma tutti i soldi che avete speso per gli effetti, usiamoli. Non è che vai lì a cercarla, è una cosa che entra nella finestra da sola. Dalla finestra della... della... della cantina. Ripeti, della cantina. Ok, 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 ok. Quindi questo è l'effetto cantina viola, ricordiamoci. In realtà, oltre al discorso che sta facendo Andrea, si vanno a recuperare... Infatti, per chi vede in video, c'è una scatola bellissima, lei da cui dopo magari pescherà... No, facciamola vedere ai cultori, di quelli che ritengono bene le cose, perché scrive una scatola che mi ha dato il mio amico Fester, mi fa, tot la regalo, me l'ha lanciata, l'ho presa al volo, e sono un po' impolverata... Tirane fuori uno e dici che cosa peschi. Ma, a caso? A caso, dai. Questo per far capire lo spessore. Vediamo un po'. La rosa nera di Gigliolo Cinquetti, che è doppio, ce l'ho già, è un doppio... Tra parentesi, vorrei dire, un disco per l'estate 1967, per cui siamo perfettamente allineati. mi piace, mi piace come artista. Se vuoi controllo quanto vale su Discogs. Sarà quei 30-40 centesimi. Fammi vedere. No, però, c'è Emanuele che stava facendo un discorso su 45 giri, lasciatelo completare, sicuramente c'era della filosofia in ballo. Il discorso su 45 giri. Sì, è valido quello che sta dicendo Andrea, cioè che ci vanno a pescare spesso quelli dei nostri padri, zii, nonni, nelle cantine e li ricuperi delle cose. Stasera ci saranno delle cose recuperate così, però in realtà è un po' anche tornato come forma di espressione, perché si riescono a produrre 45 giri anche a tirature abbastanza basse, per cui magari ci sono tanti gruppi che invece che uscire col demo, con la canzone singola su Spotify, escono con 45 giri. Ad esempio adesso, mentre uscivo per venire qua, mi sono fermato all'hub Amazon che ho vicino a casa a ritirare un 45 giri dei Diet SS. Non ci posso credere. Ma scusa, ma è nuovo di adesso? Nuovo Zora, il singolo che è appena uscito. Comunque, Giulia La Cinquetti, La Rosa Nera, 1967, genere pop, style, chanson ballad, 8 for sale, cioè abbiamo 8 dischi, 8 di questi 45 in vendita, ce li hanno 22 utenti di Iscox e 4 lo stanno cercando. Per quei 4. Però, quelli con la copertina non lasciate caso, ho parlato solo la scatola della pesca. Per divertirsi. Chi vuole pescare qua? Oggi 3,50 euro, una birra piccola. Pensavo peggio. Chi vuole pescare? Che poi devi guardare le spese di spedizione, perché 3,50 euro e 62 euro. 3,50 euro, mediamente un 45. Ma questi si regalano. Chi vuole pescare, dedicare un pezzo alla sua donna, una gigliola 50 così. È così. E si, l'ascolta su lì e dopo viene regalato. L'ascolta su lì, non mi sconvolge la scaletta. diciamo, tra un pezzo e l'altro. Invece ieri sera stavo parlando con un nostro comune amico, vabbè adesso non faccio i nomi, però Filippo Guerini, stavamo parlando di vari, proprio del discorso formati vinilici, no? E a un certo punto è stato dato fuori il tema del Q-Disc. Il Q-Disc era una roba che ci si era inventata in Italia, la IT, l'avevamo inventato, la casa discografica di Micocci, ed era la risposta italiana all'EPI, perché l'EPI, classico, quello internazionale che esiste ancora adesso, classicamente ha quattro pezzi. Il Q-Disc, infatti, vuole vedere quattro pezzi. E spesso e volentieri la IT aveva fatto dei Q-Disc con quattro pezzi di quattro autori diversi. per esempio una delle canzoni più famose di Rino Gaetano, A mano a mano, in realtà non è una canzone sua, ma è una cover di Riccardo Cocciante, perché avevamo fatto un Q-Disc con Rino Gaetano, Riccardo Cocciante, Goran e un quarto che non ricordo che si scambiavano le cover. Era un po' questa cosa. Aspetta, aspetta, una birra media per Mandelli che ci ha regalato, ci ha guadagnato il pane con questa spiegazione. Dicevi oggi? Dicevo che andando nelle cantine a ritirare dischi in vinile, soprattutto 45 giri, ho trovato dal signor Festari anche dei Flexi Disc. Cioè? Eh, sono dei dischi praticamente anche loro sfusi, perché non c'erano più le copertine che erano mollissimi, non lo so. Attenzione che arriva allo storico. Vai, Mandelli. I Flexi Disc erano spesso allegati alle riviste in edicola, tipo, per farti un esempio, il primo 45 giri Flexi Disc di Battiato, prima che diventasse Battiato, erano due canzoni pop allegate a nuove enigmistiche attascabili. Non ci posso credere. Una bruschetta anche per il dottor Mandelli che ho guadagnato... Mamma mia, sei guadagnato il pane alla grande, devo dire. Ed erano incisi su un lato solo, ovviamente, perché erano fatti in... Flexi Disc. Erano uno specchio di celofanti a caso, ne ho tanti e vediamo se... Scusa, ma girano sul piatto normale. Girano sul piatto, però ci distruggono in pochi ascolti, perché erano di celofanti, di caponcino. Ho capito, ho capito. Pazzesco. Pazzesco. Bellissimo. Comunque è un mondo fantastico. Comunque c'era il Q-Disc di Dalla, che effettivamente era molto bello. Quattro pezzi, telefonami tra vent'anni, Madonna di isperazione, ciao a te, e You've Got a Friend, un po' meno bellina, insomma, una versione strumentale, se ricordo bene, del grande pezzo di Carole King, insomma. Tirano a fare un altro, dai, Roggi, giusto per... Così, adesso mi divento curioso della... Casa, casa. Sì, sì, aspetta che metto un po' di suspense, eccolo qua, vediamo cosa pesca il Roggi dallo scatolone delle meraviglie del Fester. Vediamo un po'. esce un'etichetta strana. Dunque, cosa abbiamo? Attenzione. Possiamo... No, che siamo... No, ma era una battuta, ho portato davvero una birra media. La bevo io, va tranquilla. Lasciala pure, la offriamo Andrea. Offri la casa, anzi, offri Mandelli che te la dona, perché non può bere subito. No, però, guarda, un sorso lo faccio perché è giusto. Vai, 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 vai. Benissimo, tanto vi siete limonati per tutto il lockdown, potete anche bere dallo stesso bicchiere. Quanto è buono. Questo è il piccolo coro dell'Antoniano diretto da Maria Leventre ovviamente che interpreta Still and Act. Eh, qui io secondo me non andiamo oltre i 60 centesimi se volete c'è. E dall'altra parte Dormi piccino. Ottobre 1965. Ma ecco, allora, adesso fatemi, fatemi dunque, domanda. Visto che adesso a me non è capitato lo scatolone del Fester giù dalla finestra, però comunque situazioni del genere le ho vissute anch'io. Voi ascoltate sempre tutto ciò che vi portate in casa? Roggi? Sì, lo ascolto ma una volta sola, massimo due. Cioè, le robe, le robe che non, diciamo così, non... Che non conserverai? No, le conservo ma comunque è una cosa che ti prende l'anima, non lo so spiegarti, però chissà di chi era e chi è questo artista e vai a cercarli. tutto sommato, sono ignorante in musica, non sono una persona che conosce tanta musica. non è vero. Però, no, non è per questioni di umiltà, però col cercare il vinile sta crescendo la mia cultura musicale, extra metal, perché sono un metallaro incallito, quindi grazie al vinile, al mio amore per il vinile, per diciamo così l'antico, il passato, così, mi porta a conoscere nuove realtà, insomma. Nuove realtà e nuove storie. Nuove storie che dopo leggo su Wikipedia perché non è... non lo lasci imparato, no? No, assolutamente. Quindi tu tutte le... cioè, qualsiasi vinile ti entra in casa almeno una volta lo ascolti ma lo mandi avanti come si fa con i film di un certo tipo? lo ascolto tutto, lo ascolto e... e... e dopo di che decidi... Non sono un ascoltatore di quelli che si mette lì, deve avere le casse perfette, il diodeschi perfetto, con i suoni perfetti, diciamo così, che guardo anche la copertina, mi piace un po'. Quella influenza molto, la storia, e appunto dopo la storia che uno legge dell'artista in questione, per esempio qua abbiamo... Scusa, è terribile. Il colpo di chiave, l'automagio, quando si guardavano le donne nudi che si cambiavano... De colpo di chiave. De colpo di chiave. Attenzione, questo è un pezzone. Quando si guardavano le donne appunto dalla sceleratura e non c'erano tutti questi mezzi che ci sono adesso, che sono veramente... A me piacciono proprio. Ma parla per te. Comunque... Sputa sentenze così. queste immagini erotiche e sono belli. Dici, che cos'è questa roba? La prendo, così la scatola chiusa, che colpo di chiave, il flauto manco... Franco Trincale e il suo complesso. Franco Trincale e il suo complesso. Io ho delle cose di Franco Trincale stampate in un modello partenopeo, quindi sono cose di canzonieri di piazza, era un cantastorie un po' particolare. Io non so neanche chi sia e probabilmente se non me la rubano qua stasera nella pesca andrò ad ascoltarle e la metterò nella mia discoteca. Franco Trincale infatti pensa che anche Discord lo battezza come Italian Singer and Storyteller quindi è un cantastorie. Cantastorie, bellissimo. Un altro è Cicciubusacca che vi consiglio. Vabbè, ma qui apro e chiudo la parentesi immediatamente. Io invece non essendo come Andrea nel senso lui raccoglie, fa un po' di scambi, compra vendite, eccetera eccetera. Io quello che prendo lo prendo fondamentalmente per me. Ho iniziato a fare un po' di scambi con lui e così. Quindi sì, e non sono un collezionista che compra per lasciare lì incartato. Quindi quello che compro ascolto. Anch'io come lui le cose che ascolto la prima volta o ascolto magari due o tre volte le ascolto andando a cercarmi le recensioni leggendomi le curiosità così imparo qualcosa. Tra l'altro io e Emanuele abbiamo una storia di fanzine a fine anni 90. Questa va raccontata.